Tutto veramente tutta la scuola riesco a fare! a destra anche ragazzi se non gli facciamo fa il giro per bene però lavoriamo male a destra anche non è cioè chiamiamoli tutti chiamiamoli tutti perché sennò a destra un po non va più bene la situazione ma guardate comincia scusi comincia da questa parte grazie un attimo un attimo non scappi ci saranno grazie grazie un attimo un attimo però ragazzi un attimo guarda inizia inizia da lei guarda tutti quanti dalla sinistra a destra a destra dai 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 si ma poi si sarebbero pure noi no lentamente un attimo non ci devi dare te stai facendo benissimo un attimo un attimo Grazie Grazie Lentamente però E' andata E' andata E' andata Davanti E' andata Davanti E' andata Ma questo che è il capello tuo Da sinistra No no Da sinistra E' andata Si bravo E' il passo indietro E' il passo indietro E' il passo indietro Comincia da qua Stefano E' alla tua destra Saluti Un attimo però E' troppo veloce Stefano senza parlare Stefano senza parlare Se parli ne buttiamo tutte Piano 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 Vieni che continuo a parlare E' questa è la mia 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 Stefano Stefano Guardia Abbasso la mano E' più bella secondo te Una mano in tasca per favore Mi piace così Stefano guarda a destra Sempre secondo te E' così da parlare Vabbè E' questa è la mia 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 Dai Così il coro C'è il salano Così Avanti Stefano comincia da questa parte Grazie E' questa è la mia E' questa è la mia E' questa è la mia Stefano ci vuoi fare una foto? Stefano un attimo, un attimo, un secondo. Allora ragazzi, vorrei provare a metterlo vicino al cappello. Basta, adesso, pericino. Attaccate il cappello. No, è va bene, è uguale, è uguale. Ecco là, lei resta là. Stefano! Stefano! Beh, jeans! Stefano! Qui a destra. Un saluto! Sì, grazie. Ma che c'è del direttore adesso? Dai! Ma che c'è del direttore? Ma ce l'hai per il caso? Non è auto qua? Ma, ma, non è. Sì, se non è iniziato. Ecco, ecco. Ecco, è un gran ambello. Ragazzi. Lo faremo. Cerchiamo di essere rapidi su questo scatto, eh. Stretti. Molto. Un pochino più di qua perché avete il sole in faccia. Ok, va bene. Il sole. Ok. Ecco, mi ritorna poi. Grazie. Ecco, è qua, qua, grazie. Ecco, è in faccia. Va bene. Grazie. Fa tanto. Grazie. Mi ha fatto la cina che c'è lì. Però... Non è scatto. Quanta sì, va bene. No, no, no. Riusciamo a fare... No, no, no. Non è arrivato. 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 Quattro secondi dopo. No. Allora, signori, tutti a centro è possibile. Un po' la vostra destra, per favore. Un po' la destra. Prego, prego. Ma dobbiamo fare sta foto. Sì, da. 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 Aspettiamo un secondo che veniamo più il Presidente del Comitato Paralipico. Vabbè, facciamo Raul intanto, no? Facciamo Raul da solo, eh. Un po' la pinte è più lì. Un po' la pinte è più lì, ma non è più lì, ma non è più lì, ma non è più lì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Grazie. E che grazie? L'abbiamo fatto io. Vabbè, 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 va bene così, facciamo Raul. No, 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 secondo te perché volo più. Sì, sì, va. Raul intanto sei tu guardi qui. Grazie. 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 Se li facciamo sulla passerella non lavoriamo più comodi tutti. Ho fatto troppo appiccicato e sono sette. Sì, sì. Io lo parlo a te e Venice. Sì, è capito, meglio dove stanno adesso sulla passerella, dai. Mi sono state portate un pochino più pieno per quello che ti lascio. La bello a noi, eh. Vabbè, gli farà ombra a qualcuno, dai, qualcuno di loro. Gianni, ci dobbiamo spostare tutti. no 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 Gianni lasciali la Gianni lasciali la no 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 va bene lì dai dai tanto sto scatto dai si appunto al suo perché facciamolo veloci magari no no tutti di là no no a destra il direttore il direttore di là dall'altra parte Gianni no 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 eccola là più avanti ancora cominciate a guardare tutti da questa parte scusate fatto questo vabbè vabbè ragazzi questa va bene così su dai sì sì perfetta questa dai ottimo va bene va benissimo ancora questa riusciamo a riusciamo ad andare avanti oppure ci fermiamo qui grazie santa madonna io vorrei sapere quante di queste foto no no Raul è lì Raul al centro prima al centro sulla passerella è meglio prima c'è mezzo sole in faccia Gianni fallo posizionare lì prima va bene va bene Raul ci vai al centro Gianni per favore a destra a destra a destra Raul, guarda a destra al centro Raul, hai fatto un bel gioco a destra oddio scusate, è meglio attaccato al tabellone, si trova l'ombra lì, troviamo l'ombra lì si, ma si devono aprire loro raga, noi non la facciamo, Marilla, Marilla, scusa, noi non la facciamo da qua però eh sì, è all'estrema sinistra proprio, chi lo fa? oh, io non la faccio non sguardo a destra Raul, un attimo si, ma guardate noi, qui a destra Giorgio chi è davanti, Gianni scusa abbiamo finito, no? ah, chi lo fa? il gruppo, capirai si, ma per fare adesso il gruppo davanti al cartellone, non c'è ci siamo noi qui come scantiamo con chi ottima pure ah, 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 ce non c'è ah, ah, ah ah Noi siamo messi troppo in diagonale. Allora se noi andiamo tutti indietro, ragazzi, se noi andiamo tutti indietro, lo fanno qui, via indietro, 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 indietro. Indietro, 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 indietro. Grazie, grazie, ecco il sorriso di là a tutti, destra, destra, guardate davanti, guardate a destra, 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 grazie. Posso guardare? Posso? Guardate, 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 guardate.